Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians, io sono Splash e oggi siamo qui, sono qui, per mostrarvi come completare la sfida di Oryx, la boss battle finale del ride alla caduta di un re a livello difficile. Dunque, per prima cosa io vi mostrerò anche una mappa per farvi capire un po' meglio tutte le meccaniche che abbiamo utilizzato noi per la parte finale del ride, unita poi a degli ispezioni di video che io e Shanks abbiamo registrato, quindi vi farò vedere una doppia visione di questa sfida. In che cosa consiste la sfida? Molto sinteticamente, la sfida praticamente consiste nel fare 4 giri come al solito, solo che invece di utilizzare ad ogni giro le 4 sfere di luce nera che rilasciano gli orchi, bisogna lasciarle lì e poi attivare tutte e 16 contemporaneamente le sfere per poi andare ad uccidere Oryx nell'ultimo giro. Praticamente si spara solo nell'ultimo giro per togliere la vita ad Oryx. Bene, cominciamo un po' dalle premesse e dei consigli che mi sento di dovervi fare. Per prima cosa, ovviamente, è da dare per scontato, ma io comunque ve la dico, ogni personaggio della vostra squadra deve avere un ruolo. Consideriamo quindi che abbiamo 6 guardiani all'interno della nostra squadra, 3 ovviamente dovranno essere quelli che salgono sulle piastre, visto che l'ultima non deve essere per forza utilizzata, quindi la lasciamo da parte. Ovviamente un guardiano deve effettuare i salti per andare a prendere la luce, che lo chiameremo fantasma. E poi, possibilmente, due titani devono stare al centro, praticamente, se consideriamo la fase prima di Oryx, diciamo, in basso, in mezzo alla mappa, lì sotto, in mezzo alle due magliarde, per farvi capire. Bene, e se è possibile, appunto, due titani che utilizzino la bolla. Uno, ancora meglio, con armi della luce, uno con benedizione della luce. Questo perché? Perché, praticamente, per attivare contemporaneamente a piastra tutte e quattro le sfere di luce nera, che rilasciano appunto gli orchi una volta uccisi, dovranno essere bene o male, ovviamente c'è un certo range di... di malleabilità, diciamo così, però comunque le sfere devono più o meno combaciare l'une con le altre. Quindi, per fare ciò, cosa bisogna fare? Appena spawnano gli orchi, bisogna cercare di ucciderli il più in fretta possibile e di non fargli fare passi in avanti. Per fare questo, appunto, abbiamo utilizzato i due titani che vi ho citato in precedenza, che stanno in mezzo con le due bolle. Perché con le due bolle? Perché comunque, per tutto l'arco della sfida, bene o male, abbiamo utilizzato anche il tocco del male. Quindi, con benedizione della luce, questa abilità vi aiuta ad utilizzare il tocco del male, che come sapete, quando avete solo un colpo nel caricatore, praticamente vi va a togliere della vita. Benedizione della luce, in pratica, vi dà uno scudo in più, quindi potete non ricaricare e sparare per molto più a lungo. Magari un secondo, anche che utilizzi un cecchino che faccia qualche headshot, in modo che sapete che comunque, prendendo l'orco in headshot, se sta facendo un basso all'avanti, non lo fa, rimane lì. Quindi, comunque, questi servono per uccidere gli orchi e tenerli il più vicino possibile a dove spawnano. Quindi, ovviamente, dovranno tutti vedere come partono le piattaforme. Per conto mio, io vi sento di dirvi, ognuno abbia la prima, la seconda e la terza piattaforma. Non segnatevi una piattaforma di principio. Io, ad esempio, in quello che vedete, avevo la prima a destra, nel video che vedrete, però comunque, girando, vedendo da dove inizia Oryx, abbiamo rotato. Io, comunque, ero la terza, quindi l'ultima piattaforma da fare. Bene, partono quindi le piattaforme, escono gli orchi, i due titani fanno benedizione e armi della luce e, ovviamente, uniti a quello sulla pedana che gli dà una mano, uccidono il primo orco. Poi il secondo, poi il terzo e poi il quarto. Una volta uccisi gli orchi, però, arriveranno dalla parte opposta, li vedrete sicuramente, perché comunque spawnano sia dei corrotti, sia appunto il cavaliere. Il ruolo del cavaliere è quello di andare, appunto, a far svanire la sfera di luce nera che spawna una volta ucciso l'orco. Per i primi due, secondo me, potete ucciderli con due colpi di cecchino ben assestati in testa, li uccidete immediatamente appena spawnano dalla parte opposta della vostra piastra. Io che ero il terzo, ad esempio, quando Shanks, che faceva il saltatore, il fantasma, quando Shanks mi diceva ho preso la luce là in alto tra le piattaforme, andavo in mezzo per proteggermi tra le sfere e comunque in mezzo, una volta che stava camminando il cavaliere per andare a prendere la mia sfera, riuscivo a shottarlo anche con l'aiuto degli altri miei compagni in centro. Quindi, appunto, una volta che il vostro compagno fantasma vi dice ho preso la luce, andate poi tutti in centro immediatamente e aiutate ad uccidere il terzo cavaliere, che comunque me ne occupavo direttamente io, ma soprattutto quelli in mezzo devono uccidere anche il quarto, perché vi ricordo che l'ultima pedana non è utilizzata da nessuno, quindi è fondamentale che anche quelli che hanno ucciso gli orchi, o comunque chi arriva anche in mezzo, aiuti per uccidere il quarto cavaliere. A quel punto Shanks era già sceso appunto con la luce, va dal vascello, ovvero quel cavaliere con la vita gialla, col quadrato appunto gli toglie la luce e poi praticamente lo shotta con tre spadate. Ovviamente se ci sono già personaggi in mezzo, PG in mezzo, aiutatelo, però comunque se avete una spada esotica è veramente semplice tirarlo giù. Poi, una volta fatto ciò, appunto, tutti in mezzo, arriverà quello con lo scudo, mi raccomando ovviamente a parlarvi sempre, andato via il cavaliere è morto, il vascello è morto, se qualcuno è girato che magari sta sparando ancora qualche cavaliere, mi raccomando dica Oryx ha tirato il pugno, a quel punto Oryx tira il pugno, giratevi tutti e sparategli ovviamente come se non ci fosse un domani. A quel punto però non ci sono appunto da prendere le sfere di luce nera rilasciate dagli orchi, quindi pulite, semplicemente pulite il più possibile la mappa, perché una volta finita questa fase partirà direttamente l'eco di Oryx. L'eco di Oryx funziona come nel normalissimo ride, quindi magari se c'è un titano dentro utilizzi una bolla, magari è consigliabile mettere anche se lo avete il morte rossa perché comunque vi fa recuperare la vita uccidendo dei corrotti all'interno, magari una freccia anche sull'eco di Oryx, mi raccomando andate di cecchino di lanciarazzi o di mitra per farlo fuori il più velocemente possibile. Fatto ciò praticamente bisogna ricorrere dalla mappa, vedere un po' come si sistema Oryx per le piattaforme e rifare lo stesso procedimento per altre tre volte. Una volta giunta alla quarta volta, quando avrete quattro sfere in tutte e quattro le piastre, e mi raccomando bisogna un po' vedere che siano bene o male lì vicine, comunque pensate che il range è più o meno quella bolla che forma la luce che prende il fantasma. Quindi comunque vi ho detto anche prima, un range di malleabilità comunque c'è. Bene, quindi una volta fatto l'ultimo giro, uccidete gli orchi, uccidete tutti i cavalieri, uccidete il vascello, Oryx tira il pugno e sparate ad Oryx. Noi come potete vedere nel video comunque siamo anche un attimo rimasti fermi per pulire i corrotti che più potevano romperci le balle nel prendere poi le quattro sfere per ognuno. Quindi ovviamente decidete anche uno di quelli al centro che vada alla quarta pedana di cui nessuno si occupava in quel giro. A questo punto tornate nella vostra pedana, prendete le quattro sfere e rimedeteci quei 4-5 secondi. Io ad esempio, vabbè, ero cacciatore e ho utilizzato anche quella granata che mi rende invisibile ma non mi è servita particolarmente. Quindi vedrete tutte e 16 le sfere esplodere al fianco alla solita scritta e quindi immediatamente andate a sparare tutti ad Oryx. Tutto questo procedimento farà scendere dal 100% di vita allo 0% di vita di Oryx. Una volta fatto ciò, quindi, andate al centro come al solito e sparate per l'ultima volta ad Oryx per ucciderlo e completare quindi la sfida. Che teoricamente, se ho capito, dovrebbe darvi di certo l'artefatto a 320, può darvi o il casco a 320 o un'arma a 320. totalmente a caso. A me ha dato veramente tantissime robe, vi consiglio di farla se riuscite. E tra l'altro vi dico la verità, se riuscite a capire il meccanismo, e spero di avervelo spiegato al meglio possibile, e riuscite ad entrare in sincronia con tutti gli altri compagni della vostra squadra, vi assicuro che da un certo punto di vista, come meccanismo, è più semplice farlo così che fare ogni 4 giri le sfere, perché è veramente una rottura di balla. Alla fine così gli sparate poi una volta sola, dopo che ha tirato il pugno, andate alle sfere, tornate, gli sparate, andate a 0 di vita, lo riprendete poi al centro, quando riapre il torace ed è finito. E Oryx è bello che è andato. Bene ragazzi, io spero di esservi stato il più chiaro possibile, ovviamente nei commenti se avete dei dubbi chiedete pure tranquillamente, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di esservi stato utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, vi invito anche a seguirci sulla pagina di Facebook, su Twitter, su Instagram, su Twitch e ovviamente anche su bungee.net dove appunto trovate il nostro clan che si chiama The Guardian Seat per cercare altri guardiani per attività di alto grado. Bene ragazzi, io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti guardiani!